Naturalmente quello che sta accadendo a Forio sono tutti i nodi che stanno venendo al pettine dopo 20 anni di disamministrazione. Io dico e ripeterò ogni volta, ci sono voluti 20 anni per distruggere Forio, datemi qualche anno per poterla ricostruire insieme alla mia amministrazione. Naturalmente io per primo non voglio tenere i camion per strada perché mi vergogno io stesso di tenere i camion per strada oppure di tenere i camion in una località dunque come Zaro. Purtroppo fino al 1999 era possibile trovare un'area e creare veramente un'area ecologica. Perché 1999? Perché è l'anno in cui la Regione Campania ha adottato il piano paesaggistico e oggi Forio c'è la percentuale più alta di vincoli dal punto di vista paesaggistico in termini di percentuale, anche se il territorio è dunque più grande. Martedì 15 giorni fa abbiamo fatto un giro con il suo intendente per cercare di individuare un'area. Purtroppo è vincolata dappertutto. Adesso forse abbiamo individuato una zona rua almeno dove parcheggiare i camion. Però devo dire che stiamo trovando un'intesa con tutti i sindaci dell'Isola di Ischia per fare un qualcosa insieme fra i sei comuni. Magari l'umido lo prende un comune, l'indifferenziato lo prende un altro e poi dopo nei vari duco comuni creare delle piccole piattaforme dove è possibile raccogliere il vetro, raccogliere il cartone, raccogliere la plastica, raccogliere il ferro. Perché credo soltanto mettendoci insieme e facendo sinergia comune possiamo risolvere questo problema. Grazie.